Rosita dove stai andando? Rosita dove vai? No, nella mucca dove vai? Vuole accoppiarsi con mucca, mucca, mucca. No, dove cazzo? No, Rosita! Ah! Ah! Aiuto! C'è un bambino che mi vuole violentare! Ulla! La tua messa nel culo Rosita del caca. Bello ragazzi, bentornati su questo canale, sono Nidusplayer e oggi siamo tornati con Minecraft Survival. Abbiamo avuto un battibecco all'inizio con Rosita che voleva andare via, voleva un nuovo partner, ma noi non possiamo darglielo. E tanto qua è morto qualcuno. Esperienza? No. Spada? No, non ce l'abbiamo. Ah sì che ce l'abbiamo, va qua che bella. Questa qua la teniamo qui perché non voglio perderlo. Eravamo rimasti con... stavo dicendo proprio che mi stava scappando Rosita. Willy si è messo a piangere, povero. C'è un... poverino. Non voleva, voleva, voleva la sua compagna. È morta. Avevamo... eravamo rimasti, raga... Oh! Questa qua mi scappa. Dove vuoi andare? Mucca mia, mucca mia. Eh, la mucca, ragazzi, volevo... gli avevo chiesto di dare, nello scorso episodio, di darmi un nome per la mucca. Di lasciarmi un bel commentino con la mucca e andiamo. Poi, ragazzi, un'altra cosa. Noi eravamo pronti per partire al nostro viaggio intergalattico. Allora, eh... avevamo preso tutto il cibo, mi sembra. No, tutto il cibo no. Mi sembra che abbiamo della... per fare il pane. Abbiamo della farina per fare il pane. Dammi qua. No, del grano, sì, scusate. Patate ce li abbiamo. Bene, allora, con il grano possiamo fare il pane che sinceramente non mi ricordo come si fa. Allora, facciamo il pane che tanto il grano oltre al pane non so se ci serve qualcosa. Ok. Nove pezzi di pane, perfetto. Questo grano qua lo mettiamo che non si sa mai, ovviamente è da tenere. Allora. Allora, allora, allora. Mettiamo qua il grano. Perfetto. La cosa ce l'abbiamo. Allora, ci facciamo un'altra spada. Il legno ce l'abbiamo. La sabbia non ce ne frega niente. Dobbiamo partire per il viaggio intergalattico per la... Per la nostra carissima mucca, mi sembra, se era il nuoto. Perché da un po' che non faccio più questa serie, perdonatemi. Allora, portiamoci via anche un po' di carbone. Allora, il legno ce l'abbiamo. Allora, portiamoci via anche questo. Così facciamo 7-4, perfetto. Allora, le frecce ce le abbiamo. Il mangiare ce l'abbiamo. La terra, vabbè, la portiamo dietro perché non si sa mai. Prendiamo un po' di... Di ferro per farci la spada. Dacci uno di così. Uno. Ok. E ci facciamo direttamente la spada. Ovviamente non nella farnace. Allora, uno, due. Voilà. Spada di ferro. Ce l'abbiamo pronta. Possiamo partire per il nostro viaggio. Ovviamente, segniamoci le coordinate della nostra city. City, city. Allora, la nostra city è 95. Allora, 95. Barra 68. Barra 25. Ok, queste sono le nostre coordinate. Andiamo subito all'avventura a cercare la nostra mucca. Sì, però anch'io sono un grande scemo perché se non porto dietro il grano non può venire con me la mucca. Per fare la farm di mucca. Allora, vieni qui. Dacci qua. Grano. Portiamoci dietro anche i semi che mal che vada servono i semi. Allora, noi tono un 15. 8 semi. Va bene. Tanto così. Così abbiamo. Possiamo portarci dietro anche la mucca. Alla ricerca della mucca scomparsa. Andiamo. Andiamo! Non perdiamo tempo. Andiamo! Allora, là ho visto già della canna da zucchero tutta piena. Io ne approfitto per ciullarla. Anche se sinceramente con la canna da zucchero io ho fatto la farm perché, vabbè, è una delle cose che va a fare. Cioè, nel senso che si fanno. Ma io sinceramente non so l'utilità della canna da zucchero che ci potrebbe servire. Fatemelo sapere nei commenti. Sì, vabbè, lo zucchero, però... Capito? Nianche più di tanto serve poi. Allora, dammi qua. Noi ce lo prendiamo, visto che, vabbè, non abbiamo un cazzo da fare. Anche il cactus. Mi sembra che si può fare la zuppa di cactus. Però, vabbè... Andiamo, dai ragazzi, cercare la mucca! Alla mucca! Però mi sembra che... Eh, andiamo di qua, va. Che nella sabbia di certo le mucche penso proprio che saranno un po' improbabili a trovare. Allora, avanziamo. Dai, allora, qua c'è la... La foresta, la giungla. La giungla, andiamo nella giungla. Cerca della mucca. Il coniglio! Il coniglio! Qua serve qualcosa? No. Per portarci dei conigli, magari. Il grano, no. Ah, beh, qua serve la carota. Che io giustamente l'ho lasciata. Quindi vi ammazzo tutti! Scusate. Volevo portarvi per farvi crescere, per farvi fare un po' di amore insieme. Uh, un coniglio bianco. Ovviamente non voglio far sembrare razzista. Se ammazzo i conigli neri, ammazzo anche quelli bianchi, eh. Non è che è arrivato il coniglio bianco che fa da leader. Eh. Questo poi è dal matà. Eh, bisogna ammazzarlo sicuramente. Vieni qua. No, non scappare coniglio, non ti voglio ammazzare. Cos'hai capito? Sì, ma anch'io sono stronza. Ammazzo i piccoli che non mi dà niente, è vero. Oh! Cos'è che ce l'ha? Non vedo. Ce l'ha un blocco che... È a random. Quindi bisogna andare a vedere, ovviamente. Fare la fotografia a questo blocco a random. Sicuramente ci deve essere qualcosa di buono. Sono già morto di fame. Carboidrati con proteine. Mi sembra una dieta giornaliera eccezionale per il nostro mino di Minecraft. Allora, qua c'è del carbone, va bene. Sicuramente non ci interessa, però va bene, lo prendiamo, visto che non abbiamo niente da fare. Prendiamo questo carboncino. Perfetto. Secondo me ce ne stiamo allontanando troppo senza trovare le mucche! Eccole qui! Le mucche, l'ho gufata! No, no, i polli, no, no, no. Scusate, vi devo ammazzare. Scusate, ma mi serve cibo. Mamma mia, l'ho gufata in una maniera oscena. L'ho gufata in una maniera oscena. Guarda qua, le mucche. Me ne serve una, bagai, una. Scusami. Scusami anche te, gallina. Muori. In modo maloso. Dobbiamo farci vedere dalle mucche che siamo molto pacifici. Ci siamo qua solo per prendere il carbone. Qualcuno vuole il seme? Qualcuno vuole il grano? Ecco qui, bagai. Seguitemi. Il pastore di mucche. Anche se, vabbè, non è un pastore. Allevatore. Vabbè, dai, lo faccio a perdere. Una mucca, ragazzi. Tutte non mi servite. Andiamo. Adesso dobbiamo attivare le coordinate. Dobbiamo ritorno. Minchia, quando siamo andati in là, ragazzi. Tu sarai la prescelta, allora. Tu mi stai seguendo in capo al mondo. E tu sarai la prescelta. Andiamo. Devo andare nell'acqua, sennò ci metti 40 anni ad uscire. Brava, così. Andiamo. No, sei persa. Zia? Vuoi il grano, eh? Vuoi il grano, eh? Merda di mucca. Vuoi il grano, eh? Il grano! Come on, come on, mucca. Come on, dai, su. Su, come on, mucca. Dai, mucca, muovi il culo. Dai che sta diventando anche notte. Mucca, sta diventando anche notte, muovi il culo. E non voglio morire qua per te. Dai, dai, dai. Siamo... Dov'è che la nostra coordinata è... 95, dai. Allora non è che manca molto. Dai, mucca. No, è il cazzo. Manca tantissimo. Vieni, sta diventando notte. Io non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Oddio, c'è pure la lava. Muoviti. Che cosa fa? Balla. Si è data... Alla dubstep. Andiamo. Testa di minchia dance. Dance. Non adesso. Guarda il grano. Coniglio. Dai, 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 dai. Eccolo là la casa. Dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ultimo sforzo, mucca. Ultimo sforzo, mucca. Ti prego. Mucca, ti prego. Non mollarmi adesso. Non mollarmi adesso, mucca. Dai. No! Ma sei handicappata allora. Ah! Mucca! Mi stai facendo ammazzare, mucca! Pezza di merda. Mucca di merda. Mucca di merda. Lasciatemi stare! Muoviti, mucca. Dai che ci sei. Sei al sicuro. Dai che ci sei. E sei al sicuro. Sali. Bravissima, mucca. Dai. Dai, vieni. No, mucca. Non bella. No. Non va. C'è lo scheletro. Quanti sono, mucca? Muoviti. Seguimi. Oh, mio. Muoviti, muoviti, muovini. Muoviti. Entra. Entra. Brava. Brava. Sì. Abbiamo preso la mucca. Grazie, signore. Abbiamo preso la mucca. Muori te. Hai rotto le palle. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. E via le coordinate. Ci siamo, ragazzi. Mancate solo voi. Nei commenti dovete scrivermi assolutamente il nome di queste due mucche perché possiamo dare il via alla farm, ragazzi. Possiamo dare il via. Mamma mia, grazie, signore, per questo regalo che mi hai fatto oggi per farmi dare la mucca. Subito. Cioè, l'abbiamo gufata e ci è arrivata. Abbiamo fatto pure rima. Siamo troppo brutti. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mucche. Cioè, mucca portata. Mamma mia. Che fatica. Che fatica. Andiamo subito a dormire. Non ci abbiamo davvero neanche messo tanto a fare questo lungo viaggio. Abbiamo messo più tempo nel prepararci che nell'andare. Quindi, ragazzi, come ho detto, lasciatemi nei commenti il nome di queste due mucche. Non so se me l'avete... Io sinceramente non mi ricordo che mi avevate risposto nell'episodio, però andrò subito a vedere nei commenti. Comunque, se non l'avete fatto, vi invito a lasciare un bel nome a queste due grandi mucche, assolutamente. Perché, secondo me, meritano tantissimo. Dopo tutta questa avventura che ho rischiato di morire per loro. Ho rischiato di morire per loro. Pretendo ed esigo almeno, ragazzi, una cazzo di nome a queste due mucche. Abbiamo perso quattro testicoli solo per andare ad apprenderla. Esigo un nome. Bene, ragazzi. Allora, io potrei già iniziare con il legno che ho a fare le staccionate, sinceramente. Così tanto il cibo adesso ne abbiamo. Buono, buono. Tanto cibo abbiamo noi. Cioè, io parlare così, amico. Dammi tutto il legno. Ok, facciamo la metà. Ok, la metà. Facciamo metà, metà, otto. Trentadue bastoni. Trentadue bastoni. Io non mi ricordo come si fanno, però mi sembra così. Le staccionate. E infatti, signori, le staccionate sono qui. Allora, noi facciamo tutte le staccionate possibili, immaginarie. Allora, facciamo così. Dodici staccionate. Che, sinceramente, io potrei già fare adesso. Perché tanto, vabbè, abbiamo... Avrò tagliato sicuramente tutto il viaggio che sarà stato inutile. Allora, facciamo così. A questo punto, io... Direi di fare così. Allora, per non farle scappare, io direi di chiudere qui, assolutamente. Allora, facciamo così. Via e via. Ok. Fare, iniziare la staccionata qua. Uno, due, tre. No. Dove vuoi andare? Dove? Dove cavolo volete andare? Scusatemi. Fatemi capire dove volete andare. No! No! No, ragazzi! Non ditemi che ho distrutto Rosita! No, 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 no. Non l'ho distrutta sicuramente. È un bug. È un bug. È un bug. Ho ucciso Rosita! No! No, Rosita! Ci mancherai, Rosita. No, ho ucciso Rosita. Sono un mostro! Ho ucciso Rosita. No, ho ucciso Rosita. Non ci posso credere. Comunque, ragazzi, per questo video termina qui. Io sono... Ho ucciso Rosita. Ci vediamo al prossimo episodio. Sicuramente un figlio diventerà Rosita. Perché... No, però ho ucciso Rosita. Se il video vi è piaciuto lasciate un like per... Almeno lasciate un like per fare il funerale per Rosita. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate like, commenti, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. No, 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 no. 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 No, 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 no.